Cari amiche e cari amici, è molto importante capire come bisogna concentrarsi su ciò che accade dentro di noi proprio per cercare di ottenere il più possibile dei benefici dalla nostra pratica. Come dobbiamo fare? Come dobbiamo fare per osservare nel giusto modo? Come dobbiamo fare per calmare la mente? Quando osserviamo l'impermanenza del pensiero, ossia il pensiero che sorge, permane e si dissolve, un po' alla volta diventiamo sempre più penetranti, riusciamo a osservare questo processo in maniera sempre più nitida. Quando poi cominciamo a notare le caratteristiche di questo processo in maniera più dettagliata, ad esempio, notiamo che percepiamo una sensazione fisica e allora dobbiamo soffermarci su quella sensazione fisica, cercando di osservare quella determinata sensazione fisica. Se riusciamo a avere un buon grado di consapevolezza rispetto a questa sensazione, noi ci renderemo conto che questa sensazione diventerà come bloccata. In che senso? Normalmente, se si avverte una sensazione, nella vita quotidiana, la persona è anche ordinaria che non medita, avverte la sensazione, immediatamente fa scattare il processo compulsivo associativo della mente, senza rendersene conto ovviamente, è un processo automatico. Se invece noi osserviamo in meditazione la sensazione, vedremo che questa sensazione da un po' svanisce senza produrre il processo compulsivo, perché non produce l'automatismo che lega quella determinata sensazione al desiderio di qualcosa. Va bene? Mettiamo che la sensazione, per fare un esempio, è la sensazione di freddo. Proviamo una sensazione di freddo. Se la osserviamo, cioè se la notiamo durante la vita ordinaria, immediatamente pensiamo a come coprirci. Ecco, si associa subito un desiderio. Se invece siamo in meditazione e sentiamo la sensazione di freddo, se la osserviamo riusciamo a restare al processo di questa sensazione, cioè c'è una sensazione di freddo, la osservo e dopo un po' svanisce, senza far scattare il processo associativo che attraverso la compulsione mentale, dice siccome ho freddo devo coprirmi subito e devo cercare una maglietta più pesante oppure una coperta e così via. In meditazione dunque bisogna limitarsi a osservare senza giudicare. E questa assenza di giudizio è proprio quello che porterà la sensazione a svanire senza far scattare il processo associativo. Se invece non c'è particolare attenzione rispetto alla sensazione, all'esempio che stiamo facendo, questa sensazione si porterà presso il desiderio. Quindi, nell'esempio che ho fatto, il desiderio di coprirsi e poi inizierà subito il processo associativo, di coprirsi con quella determinata maglietta e così via. Se in meditazione non ci concentriamo sulla sensazione nel modo corretto fin dall'inizio, inevitabilmente riscatta una dinamica che è quella che poi si ha nella vita ordinaria. Quindi immediatamente si unirà subito il desiderio alla sensazione. Arrivato a quel punto, una volta che scatta il processo compulsivo che associa la sensazione al desiderio, iniziano le catene di pensieri, iniziano le catene associative e quando inizia poi una catena associativa è molto difficile poi accorgersene immediatamente e abbandonarla immediatamente. Per tutti questi processi ovviamente occorre esperienza. Occorre esperienza, piano piano ci si renderà conto sempre, in maniera sempre più pronta di quello che accade in meditazione e nel questo esempio che ho fatto della sensazione si riuscirà a cogliere immediatamente la sensazione sul nascere senza far scattare come in automatismo il processo associativo. Ho fatto l'esempio della sensazione però questo si può estendere a tutti i contenuti mentali perché sia quando meditiamo che quando non meditiamo in ogni momento sorgono impressioni nella mente. E queste impressioni suscitano anche delle immagini. Gli amici del sangha che hanno fatto l'esercizio dello specchio sanno benissimo come funziona la tecnica proprio della costruzione di maia cioè come il nostro cervello costruisce l'illusione. Dunque dicevo che questo discorso della sensazione è estendibile a tutti i contenuti mentali perché queste impressioni della mente in continuazione in continuazione nascono permangono e si dissolvono e nella tecnica dello specchio questo è proprio evidente. Gli amici del sangha che l'hanno praticata hanno potuto proprio vedere il processo. Per questo bisogna abituare la mente ad essere distaccata. Non perché la mente debba restare insensibile a causa della sua passività. Non è questo il distacco che ci vuole. Stiamo sempre attenti. Non è il distacco di un vegetale. La pace che provano in meditazione non è la pace di un cimitero. Non è questo. Perché più la mente si distacca nel senso corretto, nel senso vero della parola, più riesce ad osservare il processo dell'impermanenza. Ossia più la mente si distacca, più riesce a vedere con chiarezza il sorgere, il permanere e il dissolversi di qualsiasi contenuto mentale possa essere percepito. Allora che bisogna fare? Bisogna osservare con attenzione. questa osservazione vigile, questa attenzione vigile, contribuirà allo sviluppo della consapevolezza. quando svilupperemo in maniera molto netta la consapevolezza in meditazione, un po' alla volta ci sarà facile venire consapevoli anche al di fuori della meditazione. I piccoli esercizi di consapevolezza che alcuni amici del sangha praticano ogni ora servono proprio a questo, ad esempio, no? E lì bisogna esercitarsi poi il più possibile. Però senza far diventare, eh, ci sono molte persone che ad esempio leggono libri di Gurdjieff così, no? E come al solito Gurdjieff è stato un grande maestro, solamente che poi riprendere le tecniche e praticarle senza una scuola, non ha molto senso. Non si vuol capire il ruolo del maestro. Lì c'era Gurdjieff. E non solo per Gurdjieff, ma per qualsiasi pratica. Non si può prendere quella determinata tecnica isolandola dal contesto e poi praticarla così a casaccio. Tutto questo non ha senso. In più, chi mischia tecniche a volte sono contrastanti, fa semplicemente dei pasticci, eh? Perché non scende mai in profondità, realmente. E da qui appunto la necessità di un maestro, no? Però piano piano, ecco, con l'aiuto del maestro e del sangha, si entra in, si comprende che la meditazione deve abbracciare tutta la nostra vita. Non la tecnica della meditazione e l'immobilità, eh. Lo dico soprattutto per i nuovi, per i più esperti, non sto parlando di questo. Non parlo della tecnica della meditazione, parlo proprio della della meditazione intesa come consapevolezza, come capacità appunto di percepire immediatamente il processo del sorgere, permanere e dissolversi delle cose. E in questo bisogna esercitarsi appunto il più possibile attraverso esercizi specifici, mirati, che da il maestro e che vengono praticati molte volte durante la giornata, ma cosa importante è che non devono divenire un'ossessione, non devono divenire un'ossessione. Ci vuole molto equilibrio per penetrare nelle profondità di noi stessi e nel centro. Quando un po' alla volta ci abituiremo a sostenere questo tipo di consapevolezza profonda e allora ci renderemo conto della nostra trasformazione che accadrà spontaneamente, perché la mente, il funzionamento della mente, di una mente incontrollata, come la mente della persona comune, e il funzionamento di una mente invece sorvegliata dalla presenza mentale, dalla consapevolezza e dal discernimento, sono due cose completamente diverse. Anzi, potrei dire che non è che sono diverse, sono opposte, opposte. Così bisogna sorvegliare con cura la mente proprio affinché mantenga un giusto grado di sensibilità. E qui si trarranno dei benefici immensi, quando un po' alla volta, lavorando attraverso la disciplina quotidiana, cominceremo anche nella vita quotidiana a non perdere più in maniera totale questo tipo di chiarezza, questo tipo di consapevolezza. Questo va applicato anche al di fuori della tecnica della meditazione, quindi al di fuori della immobilità. E questo diventa un modo di percepire la realtà, per distruggere il proprio ego, tra virgolette distruggere, perché in realtà non si può distruggere qualcosa che non esiste. Però come al solito dobbiamo pur parlare e capirci, dobbiamo pur comunicare. Allora dicevo, un esempio di come funziona l'ego, che ci aiuta a capire anche come poi dobbiamo applicare la nostra consapevolezza nella vita quotidiana. Facciamo un esempio concreto. Mettiamo che sentiamo qualcuno che sta criticando, sta facendo dei pettegolezzi su una persona, no? E allora così cerchiamo di focalizzare la nostra attenzione, magari facendo finta di niente, no? E invece cerchiamo di essere più attenti a quello che sta dicendo quella persona e poi, ascoltando così senza scomporci, dentro di noi si affaccia il pensiero, ma porca miseria, ma mi sa che sta parlando di me, ma che sta criticando me? Ecco, non appena evochiamo quel me, che in realtà è legato appunto al senso di io, immediatamente scatta una compulsione legata al conflitto e alla rabbia. Finché dunque ascoltiamo senza scomporci e ci convinciamo che quel discorso di critica sia rivolto a qualcun altro, riusciamo a sentire quel discorso con il giusto distacco. Appena si immagina e si suppone che invece quel discorso riguardi noi, immediatamente, appena penso che sta parlando di me, scatta la dinamica egoica, scattano le catene di pensieri, scatta il conflitto e la rabbia. E se continuiamo a dare spazio alle catene di pensieri, quindi il pensiero base, per gli amici del sangue, che sanno di cosa sto parlando, il pensiero primario diventa, sta criticando me. Da questo pensiero primario iniziano le catene di pensieri, le catene associative. E se riusciamo a bloccare le catene associative attraverso il ritorno della consapevolezza, riportare la consapevolezza al pensiero primario, che è all'origine della catena associativa e dunque alla emozione che è sempre associata col pensiero primario, perché ricordiamoci è quello che bisogna individuare, l'emozione associata al pensiero primario. E allora basterà ritornare al pensiero primario, avvertire l'emozione e rendersi conto della sofferenza che si prova appena si intromette il senso dell'io. Ossia quando, nel caso dell'esempio appena fatto, sentiamo che la persona sta parlando di qualcuno, siamo distaccati. Appena parla di noi, immediatamente scatta, va bene, aumenta l'emozione. Il pensiero primario sta parlando di me, provoca catene associative di pensieri e dunque ecco, allora sta parlando di me, ah ma allora adesso gli toglierò il saluto, ma porca miseria quante poche e così via, le catene associative. All'origine di queste catene associative e il pensiero primario c'è anche il conflitto e la sofferenza che scatta dal momento in cui noi evochiamo il senso dell'io. Il pensiero primario sta parlando di me. Questo io immaginario dunque si ramifica in catene di pensieri compulsivi più svariati. In questo modo la compulsione favorisce proprio il disperdersi della mente millerivoli, perché stiamo dando spazio a un inquinante, ricordate avversione, attaccamento, ignoranza, i tre inquinanti fondamentali, no? avversione, attaccamento, ignoranza. Qui, in questo caso, l'inquinante dominante che è l'avversione, va bene, ossia la repulsione rispetto a ma starà parlando di me, da questo inquinante nascono le varie catene di pensieri e la mente, dicevo, si disperde in mille ramificazioni sotto l'effetto di questo inquinante e la presenza mentale necessariamente diminuisce. Sta alla nostra esperienza, arrivata a quel punto, individuare immediatamente l'emozione che scatena associata col pensiero primario e le ramificazioni. Più siamo esperti e più riusciamo ad essere consapevoli immediatamente del processo. Va bene? E allora, sempre tornando all'esempio che ho appena fatto, quando la nostra immaginazione ci dice, ma sta parlando di me quel pettegolezzo, queste brutte cose che sta dicendo riguardano me, ecco, in quel momento, se siamo persone molto esperte, immediatamente ci renderemo conto dell'emozione e del pensiero primario e basterà la semplice osservazione per stopparlo. Meno siamo esperti, più ci facciamo prendere dall'ego, che vuol dire che più scattano i pensieri associativi, le ramificazioni del pensiero primario e più queste ramificazioni diventano massicce, si sviluppano in maniera molteplice e più sarà difficile ritornare al pensiero primario e far svanire l'emozione che ha originato le diverse ramificazioni. Normalmente le persone ordinarie non si rendono conto di niente. Va bene? La persona ordinaria, la persona non consapevole, la persona che vive robotizzata, sentendo il pettegolezzo, nel momento in cui fa scattare il senso dell'io, inizia con ramificazioni infinite che a volte possono anche durare delle ore, ma non sto dicendo per dire. A volte queste ramificazioni durano delle ore, si sta per delle ore a rimorginare a quello parlava di me, il pettegolezzo, sempre con questa sorta di difesa dell'io, questa sorta di difesa di qualcosa che in realtà non esiste. Perché le illusioni appesantiscono, le illusioni ci favoriscono gli inquinanti, in particolare l'inquinante dell'ignoranza e quando la mente è inquinata appunto dalla ignoranza e quindi non può avere una visione cristallina, una visione chiara, ci si perde nelle illusioni e nelle ramificazioni del pensiero. arrivato a quel punto, quando le persone si identificano con le ramificazioni del pensiero, possiamo dire che diventano sorde e cieche, perché c'è un ripiegamento su se stessi in realtà, un tentativo di difendersi, va bene? Di difendere la propria immagine, di difendere il proprio ego, che non è altro che chiusura in se stessi. E attenzione perché le inquinanti, gli inquinanti sono da considerarsi come delle vere e proprie malattie. Ripeto, inquinanti sono l'avversione, l'attaccamento e l'ignoranza, sono i tre attaccamenti, i tre inquinanti principali da cui, attraverso i quali si scatenano proprio le catene di pensieri, no? Se, e come immaginate, avete presente un accendino, no? Un accendino ha la pietra che deve essere, la rotellina, no? Che deve essere azionata per provocare la scintilla e far uscire il fuoco dall'accendino. Ecco, se noi lo accendiamo per un attimo e la fiamma si spegne immediatamente, se noi non teniamo premuto poi il pulsantino per mantenere la fiamma. Se non facciamo questo lavoro, la fiamma continuerà a bruciare e se questa fiamma che brucia viene a contatto qualche materiale infiammabile, può provocare anche un incenso, sì, un incenso, può provocare un incendio di immane proporzioni. Che voglio dire? Che quando nella mente sorge un pensiero legato a un inquinante, le catene di pensieri sono come l'incendio, cioè o riusciamo a essere consapevoli immediatamente e a soffocare quella scintilla, quella fiamma, o se no le ramificazioni sono come un grande incendio. Allora sta la nostra rapidità di impedire alla fiamma di svilupparsi, così come se scoppia l'incendio sta la nostra rapidità, va bene? E soffocarlo subito, prima che diventi talmente grande, che arrivare a quel punto ci coinvolge e non possiamo fare più nulla. Nella misura in cui noi siamo consapevoli immediatamente dell'inquinante, l'inquinante si risolve. Per fare questo occorre pratica, pratica e pratica. Senza la pratica non si va da nessuna parte, senza il maestro non si va da nessuna parte, senza il sanga puoi andare anche da qualche parte, ma a volte questo luogo dove vai è una sorta di autismo e altre volte la follia. Quindi l'insegnamento, il maestro e la condivisione sono sempre fondamentali per l'equilibrio di un meditante. Neanche in questo caso riusciremo a non far sviluppare l'incendio solamente se avremo una buona conoscenza delle cose, ecco la dottrina, un maestro che ci dà indicazioni su come dobbiamo comportarci per non far sviluppare l'incendio e infine la condivisione con gli altri che ci incoraggerà poi ad agire nel giusto modo e ad avere questa chiara visione. Ecco l'importanza di comprendere che questi inquinanti sono da considerarsi come una sorta di malattie della nostra anima, come delle malattie della mente. e se cominciamo a interessarci agli inquinanti e a vedere che sono una sorta di malattia perché ci frammenta, frammenta la nostra interiorità, non riusciamo ad essere integri quando seguiamo le catene di pensieri, che si infiammano e l'incendio si diffonde con estrema rapidità. E allora dobbiamo prepararci, dobbiamo prepararci a essere centrati, a riconoscere le nostre emozioni, le nostre sensazioni, a riconoscere tutto quello che accade in noi. Come fare per arrivare a essere centrati e a riconoscere il pensiero primario, a non far sviluppare l'incendio? Attraverso la pratica, la pratica e la pratica, l'importanza della meditazione, l'importanza della consapevolezza che si sviluppa dalla meditazione, l'importanza di questa consapevolezza che attraverso la disciplina, ossia la pratica costante diventa un modo di percepire la realtà, diventa una modalità della nostra psiche. Così la meditazione possiamo dire che è una sorta di vaccino, una misura preventiva che rafforza la presenza mentale, quindi rafforza gli anticorpi che sono la consapevolezza e la presenza mentale e impedisce al virus, ossia alla sostanza inquinante, agli inquinanti, di prendere il sopravvento. Così attraverso la disciplina noi possiamo rinforzare le nostre difese immunitarie, ossia la consapevolezza e la chiara visione ed impedire agli inquinanti di creare disarmonia nella nostra interiorità. Un caro abbraccio a tutti, Marco Cosmo.